se è un po in realtà un po pino daniele questo stacchetto qua no questo stacchetto qua ha un nome ben preciso se vuoi leggerlo no non te la senti non te la senti ma è giusto così non tutto deve essere pubblico non tutto deve essere trasparente alcune cose devono essere secrete con sta cosa che schifo mi fa schifo sta cosa che dici secreto invece di segreto le ragazze ridono e poi comunque non è che dico io è un modo di dire ma è tu un tuo ma guarda che era come si diceva come si diceva correttamente in italia prima che manzoni decidesse di lavare i panni in arno cioè decidendo lui con un arbitrio tutto personale che non si capisce da dove derivi che parlando un po fiorentino peraltro un prete di lecco parlava fiorentino parlando un po fiorentino i promessi sposi avrebbero avrebbero acquistato tutto un linguaggio che aveva valenza nazionale ma chi cazzo l'ha detto cioè io li volevo baresi e che chezzo avete appena sentito l'editoriale di facchini manzoni era uno stronzo il succo è quello lì il succo è quello lì le dici